Presidente Catarra, oggi è il primo marzo, un anno dall'alluvione, come è la situazione? Direi che dal punto di vista finanziario, peggio di così non potrebbe andare. Noi abbiamo atteso per un lungo anno che avvenissero determinate cose, non sono avvenute. Dal mille reproro in poi è successo praticamente di tutto, tranne che avere soldi. Quindi noi siamo amareggiati per questo, sappiamo che la Regione ha fatto dei suoi passi, l'abbiamo detto in tutte le salse, 20 milioni di Euro che non sono la panacea dei mali, ma almeno potrebbero dare un po' di respiro ai comuni che hanno anticipato le somme urgenze, tutti sappiamo con le difficoltà legate al patto di stabilità questo cosa significa, quindi almeno quelle cifre dovrebbero rientrare. C'è qualcosa che si muove, noi insieme alla Regione stiamo perorando questa delibera della Giunta regionale, questo disegno di legge dei 20 milioni di recupero dai FAS non spesi dai residui dei FAS e notizie ufficiose la danno addirittura d'arrivo. Fra questo Cipe, quello di oggi, giovedì, e la prossima riunione del Cipe, questo provvedimento dovrebbe essere approvato. Noi naturalmente lo auspichiamo, sarebbe una prima risposta, non sufficiente ripeto, ma comunque sarebbe una prima risposta. Nel frattempo la provincia ha fatto molto più di quello che era umanamente possibile fare, abbiamo avuto purtroppo una seconda calamità che è stata quella della neve, che ha anche interrotto i lavori di rifacimento del ponte famoso sul fiume, che interrompe praticamente il flusso del traffico fra la Valvigurata e la provincia di Teramo e tutto il resto della provincia di Teramo e quindi anche in questo siamo stati sfortunati, però i lavori andranno avanti, stanno andando avanti e saranno terminati in tempi più brevi possibili. Comunque ripeto, siamo in attesa di queste somme e speriamo che arrivino nel più breve tempo possibile.